Un'emergenza fuori controllo frutto dalla mancanza di una concreta strategia che sta devastando le campagne sarde nonostante l'allarme lanciato nei giorni scorsi dal Centro Studi Agricoli alla Regione. E' quanto denuncia in una nota Mara Lappia, deputata del Centro Democratico, che sull'invasione di Cavalletta nel centro Sardegna ha presentato un'interrogazione al Ministro delle Politiche Agricole e Alimentari Stefano Patuanelli, chiedendogli di accertare la responsabilità dei ritardi nel contrasto del fenomeno e chiedendo anche un intervento del Governo. Nelle zone centrali dell'isola l'invasione delle Cavallette si sta allargando a macchia d'olio con agricoltori e allevatori disperati per la drammatica emergenza, sottolinea la deputata Nurese, che ricorda come i comuni interessati siano ora 22 per un totale di oltre 30.000 ettari. Il fenomeno nei prossimi giorni continuerà a interessare altre vaste porzioni di territori in tutto il centro Sardegna a causa della continua schiusa dalle uova. Come denunciato da Coldireti, centinaia di aziende agricole e allevamenti sono in ginocchio, sollecitò la Regione a dichiarare senza indugi lo stato di calamità naturale. Se così non fosse, le conseguenze per il sistema produttivo del centro Sardegna rischiano di essere devastanti per l'intera economia dell'isola, conclude la deputata Lappia.